Ciao e bentornati sul canale! Bentornati sul canale! Oggi è super puntatona! Super puntatona, apriamo due confezioni Funco! Funco, allora, i Funco Nella confezione delle uova, proprio uova Esatto, i Funco stanno finendo Non i Funco, i Funco della Kinder Perché ci sono le nuove collezioni Ma noi volevamo trovarne alcuni in particolare Che non abbiamo trovato La gattina E quindi ci siamo procurati Guardate che carina è proprio la scatola delle uova Bellissima Io credo che la utilizzerò per qualche favoretto Quindi lei è già veloce, sta aprendo Allora, ci sono quattro Quali vuoi trovare? Lo sappiamo già, no? La gattina E qui non c'è la checklist Sul primo cercheremo la checklist Io te li divido Ovviamente il Kinder Joy è un prodotto prettamente estivo Appunto perché una volta le uova si scioglievano Allora hanno fatto un uovo già sciolto e via Ok, che cosa hai trovato? Adesso c'è, sono quelli invernali Quindi abbiamo visto Frozen Abbiamo visto, vendremo le macchinine Vendremo quelli di animali Ci sono dei microadesivi Tra cui c'è pure la gattina Ah, ma qui ne manca un adesivo grosso da attaccare su questo Immagino Eccola, è la gattina Però adesivo Però sono sue orecchie Ma scusa, ma non ho capito È una scatola È una scatola portacarte No, tu ci metti gli adesivi e poi li tiri fuori Allora, ecco qua Questo è il risultato finale Qua si mettono dentro gli adesivi che escono Io ne avevo già uno, tipo quello Allora, si mettono qua Eccoli qua Li pieghiamo Forse, no, se riusciamo Ci vuole un attimo per... Aspetta Io li sto dividendo e mi sto preparando i Kinder Joy Quelli normali Ecco qua In pratica da qua potete estrarre i vari adesivi E davanti avete uno di funko Ma noi cerchiamo i personaggi belli anche le altre cose Ma i personaggi sono meglio Questo è il cibo questo? No No, il cibo è questo, vieni Il cibo lo mangeremo poi con calma lo condivideremo Perché sennò è troppa roba Questo Mi convince questo perché fa Fa vedere Medio rumore Medio rumore Personaggio Personaggio è Non è bellissimo Ma forse ce l'avevamo già Con la chitarra Carino Dai Personaggio funko Io non mi ricordo quali avevamo Quali abbiamo già Questo però L'altro dovrebbe essere l'altro funko Se non è questo Potrebbe essere Andiamo a vedere L'elfo domestico dice delle cose incomprensibili Qui abbiamo un portachiavi Questo l'abbiamo già visto altre volte Chi è? Cavolo Non è la gattina Ci sta andando male Per il momento Attacchiamo questo E qui abbiamo questo che l'abbiamo attaccato qua Ci è andata malissimo E questo è il portachiavi Ci è andata veramente male Ah questi sono gli altri che abbiamo trovato Eccoli qua Posso dire che ci è andata veramente Ma veramente Ma veramente Ma veramente male Però guarda che ne abbiamo tre su quanti Quanti sono i funko totali? Doppio? No però Ah Non è la gattina Eh ho capito Non è la gattina Non è che poi avere la fortuna Io cerco lo squalo in quegli altri Sarà difficile Però intanto ne abbiamo trovati quattro Su Quanti sono? Ma è bello Il tastierista con gli occhiali da sole Guardalo È carino Quindi in totale ne abbiamo Quanti sono scusa? Ah boh Cioè dovrebbe essere Un'immagine frontale No Questi sono i quattro Che abbiamo trovato Eccoli qua E oggi questi due qua Insieme alle due cose Evidentemente Con Sara abbastanza delusa Poi abbiamo trovato anche questo Fermapagine Quest'altro portachiavi Queste sono tutte le sorprese Della Funko Kinder Che abbiamo trovato Fino ad oggi Sfortunati No Comunque abbiamo trovato questo Della gattina Un portadesivi Un mini adesivo Della gattina Quindi Però non ha le orecchie Chi lo sa Se andremo avanti A distruggere tutto Come stiamo facendo adesso Ad aprirne altri Oppure no Come moschettone Esatto Cosa faremo? Ne apriremo altri? No Chi lo sa La vedremo Vedremo prossimamente E noi come sempre Vi sottolineiamoci Nel prossimo video Ciao Ciao